E' come vivere in una favola, c'era una volta tanti anni fa, ma chissà cosa c'era tanti anni fa. Quello che c'era oggi, i violini, le sirene, Ulisse, l'equipaggio, la magacirce, i ciclochi. Quando la musica non è più musica, ma la musica diventa magia, è perché nella magica console sta suonando lo staff metopsicosi, alternativa alla banalità, alternativa alla retorica, alternativa a tutto quello che è normale. La magia, questa è la magia elettronica, quando la musica non è musica, perché ti fa venire la pelle d'oca. Questa è semplicemente un'emozione, è l'emozione della musica, è lo strumento che ci fa viaggiare. Viaggiare, viaggiare, sempre viaggiare. Do you wanna fly with me, brother? I wanna fly with me. Where you wanna fly? Hear the sound. Woo! Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora me lo metto tra le palle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.